Col mio carattere non mi sono mai fermato, a me piaceva la meccanica, ho ideato i pompon, sono riuscito a fare una macchinina e funziona ancora e fa 3.000 fiocchi al giorno con per passione. Il miglior pae del mondo è il nostro, a parte la battuta. I segreti del pae sono variabili, molto variabili, nel senso che è una fibra difficile da lavorare, molto, molto resistente e da una bava continua, deve sfioccare, dare una morbidezza, lo deve rompere, ma lo deve rompere in modo che non si surriscaldi, ha le regole. E' come rasare un prato, no? E lo deve rasare un po' la volta e un paio nostro ha 12-13 passaggi. Siamo entrati in Germania quel paio perché eravamo bravi a fare il paio e lì sicuramente sono state le prime mosse giuste nella Germania. Grazie. Grazie.